Continua il maltempo nel Pesarese con un'incessante pioggia che si è abbattuta sulla città dalle tre del mattino di ieri fino al primo pomeriggio di oggi. Una vera e propria bomba d'acqua si è scagliata sulla città di Rossini, obbligando così l'intervento di vigili del fuoco, centro operativo e polizia locale già dalle 5 del mattino, specialmente nella zona di Villa Caprile. La causa? Un distaccamento di terra dal terreno della scuola causante detriti sulla strada statale 16, motivo che ha portato alla chiusura della statale adriatica in direzione sud-nord da Via Milano fino a Santa Maria delle Fabrece. Una situazione sotto controllo, ma le cui criticità vanno comunque monitorate, anche perché il movimento franoso ha interessato vie perpendicolari alla statale e il fango ha ricoperto tutta l'adriatica fino a raggiungere le case sul lato opposto di Villa Caprile, in particolar modo le zone di Via Sabotino, Lucio Accio e alcuni dei garage privati in Via Bologna. La bomba d'acqua ha causato inoltre alcuni problemi anche al centro sociale di Vismara e soprattutto ai vari sottopassi della città, come ad esempio quello di Loreto, che è stato chiuso in seguito alla forte pioggia, poiché l'acqua non ne permetteva la percorribilità. Così come impossibile era percorrere altre zone della Pesarese, soprattutto dirigendosi verso l'area che riguarda l'istituto alberghiero, partendo dalla scuola stessa fino a passare alla ciclabile situata alle sue spalle, praticamente cancellata dalla vista a causa della mole d'acqua che l'ha ricoperta. Stesso discorso per il cantiere dell'ex chief, che trovandosi sottolivellato a causa dei lavori si è trasformato in una vera e propria piscina. Il maltempo ha anche riguardato altre aree della città, come il retro della zona copp o provocato la caduta di diverse piante e alberi. Una situazione che dunque continua ad essere attenzionata e monitorata per ristabilire al più presto la viabilità, ma soprattutto la sicurezza.